Neppure basta il tempo di documentare in modo esaustivo lo scempio generato dagli incendi che hanno distrutto ampie zone di territorio tra Castellammare del Golfo e San Vito lo Capo che ecco stasera un altro rogo svilupparsi ad Alcamo Marina, nel giro di circa mezz'ora comunque è stato circoscritto e domato dalle squadre antincendio intervenute, ecco qui le immagini raccapriccianti che hanno destato diffusa paura nella popolazione perché si tratta di una zona densamente abitata e anche dalla spiaggia molti hanno assistito impietriti a quanto stava accadendo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.